Amici 22, Wax discute con Non mi stai simpatico. Nella casetta di amici di Maria c'è stata una lite piuttosto accesa tra Wax e Aaron. Tutto è partito dal secondo che ha semplicemente chiesto delle spiegazioni al compagno di classe su un guanto di sfida lanciato da Arisa. In un primo momento Wax ha tentennato nel dare delle risposte, ma successivamente ha perso la pazienza e ha urlato contro l'altro cantante. In un secondo momento l'allievo di Arisa è tornato sui suoi passi e ha chiesto scusa al compagno di scuola. Tutto è inizio da un guanto di sfida lanciato da Rudi Zerbi a Wax e Arisa, l'insegnante del rapper ha rifiutato e ha rilanciato la stessa sfida ad Aaron. Secondo il punto di vista di Arisa, Zerbi avrebbe paura che il talento di Wax possa mettere in difficoltà il suo allievo. Per questo motivo a sua volta ha lanciato un guanto di sfida ad Aaron sulla stessa canzone. Ma con la richiesta di inserire delle barre. L'allievo di Rudi Zerbi dopo aver ricevuto la lettera da Arisa si è sfogato con i suoi compagni di classe. In particolare, l'allievo non ha gradito che Wax non lo abbia messo al corrente di quanto aveva deciso la sua insegnante, il giovane ha spiegato che non ha problemi a scrivere cover. Ma non essendo un cantautore ritiene che non sia giusto farlo. Alla domanda di Aaron, Wax ha cercato di spiegare che non sapeva del guanto di sfida lanciato dalla sua insegnante. Nel momento in cui Aaron ha fatto notare che fosse impossibile che non ricordava una cosa sentita pochi istanti prima. L'allievo di Arisa ha detto, mi sono rotto. Nel sentire gli altri allievi dare ragione ad Aaron. Wax ha rincarato la dose, io ti mando a fare in cio perché non mi stai simpatico come persona. Non ti voglio più guardare negli occhi. Wax ha tirato in ballo anche Rudy Zerbi e ha sostenuto che l'insegnante non si deve permettere di chiamarlo Ciuchino. Infine ha riferito che si sente preso di mira dall'insegnante di canto da quando ha messo piede nella scuola di Maria De Filippi. In un secondo momento, Wax ha compreso di aver esagerato con i termini nei confronti di Aaron. Per questo motivo lo ha raggiunto e ha fatto mea colpa per quanto accaduto poco prima. Inoltre il cantante ha riferito di non pensare veramente quello che ha detto sul compagno di scuola, ti chiedo scusa. Sebbene Wax sia arrivato con le buone intenzioni, questa volta Aaron ha deciso di non credere alle parole del cantante. Secondo lui ha tenuto nascosto il guanto di sfida lanciato da Arisa solo ed esclusivamente per metterlo in difficoltà nella seconda puntata del serale di Amici di Maria. Secondo lui ha tenuto del VD sau Carpo 3 sa va mananci vers cu vers card intens 3 sa crezi, crezi ce vrei sa crezi. Eu va respect pe tot, dar focusez pe nivelul urmator de zici ca ma bar cu bossu La cat de urat sunt, cum sa va iau cu frumosu? Metafore, hiperbole, le obtin prin alchimie Cand adun cuvinte din Domn ma pun, le pierd la 1000 de grade Celsius Sa ramana spus si sa se stie E nimeni cel mai bun, dar evolueaza cel ce vrea sa fie